Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video speciale Allora questo video l'ho pensato letteralmente oggi infatti in teoria nella mia scaletta sarebbe molto indietro Ma siccome mi son beccato il raffreddore e siccome non volevo rovinare con la mia voce orribile il video teoria che avrei dovuto portarvi quest'oggi E siccome non ho neanche tempo per realizzarlo perché come al solito i contrattempi nella vita sono tanti e le bestemmie altrettante Ho deciso di anticiparvi questo video che è un video speciale che mi è stato ispirato da un video inglese che ho visto di uno youtuber che mi piace moltissimo Che trovate in descrizione in cui ha un tot di poketubers che tra l'altro è una cosa che vorrei fare anche qui in Italia ma non c'è una community abbastanza numerosa per fare una roba del genere Venivo posta la domanda su quale fosse per loro il miglior gioco pokemon e ho notato che in moltissimi casi mi è ritirata in ballo la nostalgia Oh la 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 nostalgia quella che tutti amano tutti odiano nessuno ci capisce un cazzo I nostalgic fag quelli che da un lato sono etichettati come i grandi paladini delle prime generazioni mentre dall'altro invece vengono sbeffeggiati e considerati il cancro della community Ora a parte questi fazionismi tipici della community di pokemon peraltro la domanda da porsi è questa Cioè nel giudicare il miglior gioco pokemon ha senso chiamare in ballo la nostalgia? È una sensazione attendibile? Per rispondere a questa domanda bisogna partire secondo me dal presupposto che pokemon basa molta della sua campagna marketing e in generale il brand si appoggia molto sul fattore nostalgia dei fan Che in realtà a mio avviso non è una strategia molto buona dal punto di vista di marketing È una strategia che funziona sul breve e medio termine perché? Perché a una certa quelli che provavano nostalgia lentamente verranno sommersi dai impegni più importanti di pokemon La famiglia il lavoro chi più ha più ne metta e smetteranno per forza di cose di comprare console e simili Peraltro rischiando di essere delusi dei nuovi giochi e conseguentemente allontanandosi dal brand Insomma la strategia di Game Freak e di Nintendo su pokemon è abbastanza rischiosa a mio avviso Però è in dubbio il fatto che puntino molto su questo fattore nostalgia Lo vediamo con i continui remake della prima generazione Lo vediamo con il concetto stesso di remake Lo vediamo con le forme a Lola Lo vediamo con i riferimenti a Kanto Che è la top regione per quanto riguarda la nostalgia Ma la domanda persiste Perché di fondo dire che i fan di pokemon sono tutti molto nostalgici E che Game Freak utilizza questo fattore per vendere più giochi Non da una risposta alla domanda Cioè è legittimo dire è il mio gioco preferito Oppure dire è il gioco migliore Semplicemente perché è stato il primo a giocare Ora io vi espongo il mio pensiero Io sono la persona meno nostalgica di questo pianeta Per me la nostalgia è proprio un sentimento estraneo Io ho iniziato con pokemon rosso fuoco Ho proseguito con diamante perla Vi posso assicurare che iniziare rosso fuoco Iniziare diamante perla E iniziare pokemon sole Iniziare pokemon bianco Per farvi due esempi Non mi fa nessuna differenza So che per molti questo non è così Sento di gente che prova i brividi Quando sente partire la musichetta iniziale Del primo gioco pokemon Io la nostalgia veramente In questi casi non la provo Ciò non vuol dire che io non voglio provarla Anzi vi dirò di più Io invidio in realtà Chi prova nostalgia nel brand pokemon Chi si approccia a un gioco Che ha giocato 5 anni prima E magari si emoziona Proprio perché è il primo gioco È secondo me un sentimento nobile E purtroppo io non sono così Cioè per me questo concetto Della nostalgia Sono un fan di pokemon atipico Lo so L'ho sempre detto Per me questa cosa della nostalgia Del riprendere le cose vecchie Non lo so Non mi attacca Non si attacca Capite? Non riesco a farla mia Voglio le cose nuove Non le cose vecchie Però mi piacerebbe in realtà Provare questo sentimento di nostalgia Questo per dirvi Che comprendo benissimo Chi è nostalgico Di un gioco pokemon E chi prova brividi Nel momento in cui si approccia Al suo primo gioco pokemon Più che comprendo Compatisco Rispetto Accetto Elogio Non lo so Trovate voi un'espressione migliore Fatta questa premessa È giusto secondo me Tirare in ballo La nostalgia Nel momento in cui si giudica Il miglior gioco pokemon A mio avviso No Per carità Nel momento in cui la domanda È qual è il tuo gioco pokemon Preferito La nostalgia Gioco forza Gioca un ruolo Molto ma molto Forte per molti Ed è giusto che sia così Se bisogna dire Qual è il proprio gioco preferito È giusto dire Qual è effettivamente Il tuo gioco preferito E se la nostalgia Svolge un ruolo importante In questo tuo giudizio È giusto non denigrarla Quello che secondo me Però è profondamente sbagliato È passare Dalla preferenza Al sostenere Che un gioco è migliore Semplicemente Perché hai stato il primo Che hai giocato Credo che questa cosa Sia sbagliatissima E ancora più sbagliato È ciò che chiaramente Ne consegue a questa affermazione Perché nel momento In cui il tuo gioco preferito Diventa anche necessariamente Il migliore In virtù della nostalgia Chiaramente Dire che è il migliore Perché è stato il primo Non regge più E allora si scatena Quella situazione Per la quale Si cercano degli elementi Che possano far diventare Il gioco Da preferito a migliore Che sono totalmente Infondati Della serie I 151 Pokémon Sono i migliori Eh ma i primi giochi Erano i più difficili Eh ma adesso Stanno diventando Per bambini Perché adesso Tutti i motivi Che sono in realtà La copertura del fatto Che si pretende Che il proprio gioco preferito Sia necessariamente Il migliore Potrei andarvi a prendere Kant Che sto studiando Ma non lo farò Per non uccidervi E non uccidermi Che non c'ho voglia Sinceramente Quello che voglio dire È che a mio avviso I Nostalgic Fag Sbagliano Nel momento In cui cercano Delle ragioni Per giustificare La loro preferenza Che deriva Dalla nostalgia Non serve Giustificare Una preferenza La nostalgia Può da sé Giustificare Qualsiasi tipo Di preferenza E non c'è bisogno Di addurre Motivi allucinanti Semplicemente Si tratta Di un parere Soggettivo E nel momento In cui si richiede Magari un parere Più oggettivo Che comunque Oggettivo non è Perché ci sono sempre Delle scale di preferenza Tipiche nostre Della persona singola Occorrerebbe pensare Al di fuori Della nostalgia Cioè pensare Con uno spirito critico E andare a criticare Anche quel gioco Che è stato il tuo primo E che magari È il tuo preferito Anche facendolo Magari a malincuore Posso capire benissimo Che la prima generazione Sia la preferita Di molti Perché in molti Hanno magari iniziato Con quella Posso capire Molto di meno Chi pretende Senza dare Delle motivazioni Sensate E finora Vi assicuro Sulla prima generazione Non ne ho trovata una Che questa prima generazione Sia effettivamente La migliore di sempre Insomma Per avere un parere Oggettivo Cerchiamo di uscire Dalla nostalgia Perché tutto sommato La nostalgia Può essere un sentimento Nobile E molto piacevole Se sfruttata positivamente Ma allo stesso tempo Se eccede In quello che è il suo compito Rischia di diventare Un freno Al progresso Se i lavoratori Di Game Freak Fossero tutti Dei nostalgici Di Pokémon Delle prime generazioni Staremmo ancora Probabilmente In quattro gatti Ad aspettare Il ventesimo remake Di Pokémon Rosso e blu Fortunatamente Non è sempre così Anche se a volte ci tocca Ma ecco Questo era l'assunto Della situazione Cerchiamo di essere Nostalgici Sì Ma ricordiamoci I limiti Della nostalgia Detto ciò Io spero che questo video Vi sia piaciuto Spero che vi abbia Interessato l'argomento Spero che vi abbia Portato a riflettere Fatemi sapere Ovviamente Nei commenti Che cosa ne pensate Di tutto questo discorso Della nostalgia E dei nostalgic Fag Che so che ce ne sono molti So che molti Sono contro di loro Se riusciamo a creare Un bel circolo Di opinioni Senza insultarci Sarebbe davvero Una cosa positiva Detto ciò Non so se vi ho già chiesto Like Ma nel caso Vi chiedo like Il commento L'iscrizione Nel canale Passate dai social Ovviamente Per rimanere Sempre aggiornati Sull'attività Al di fuori Del canale E premete The campanel Per rimanere Sempre aggiornati Invece Per quanto riguarda I feed Detto ciò Ragazzi Noi ci becchiamo In un prossimo Video In un prossimo